Un'auto lanciata contro la Sara Cinesca come una riete per lo sfondamento. Così una banda di malviventi è entrata questa notte all'interno dell'Uni Euro di Olmo. Per il negozio di elettronica si tratta del secondo furto subito nel giro di poco tempo, mentre un altro tentativo era andato a vuoto pochi giorni fa, il 18 aprile, quando l'allarme fece fuggire la banda. Era invece il 20 marzo quando per la prima volta entrarono, rubando merce per 15 mila euro dopo aver tagliato la Sara Cinesca con la fiamma ossidrica. Questa volta invece i ladri hanno agito su più fronti, tagliando i fili della luce del lampione che illumina l'ingresso, coprendo con il poliuretano espanso le telecamere di videosorveglianza, tagliando i pali arancioni con la fiamma ossidrica e poi lanciando l'auto contro l'entrata sfondandola. All'interno del locale la banda armata di mazze e picconi ha fatto razzia di prodotti elettronici facilmente trasportabili come cellulari, tablet e console. L'assalto è avvenuto alle 3 di notte con i malviventi che hanno messo fuori uso l'allarme agito indisturbati fino ad andarsene via dal cancello principale. Della Sara Cinesca e della vetrata restano accantonate lamiere e vetri rotti mentre il negozio ha ripreso a lavorare nella tarda mattinata. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Arezzo. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Arezzo. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Arezzo. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Arezzo.